Un senzatetto ha forzato la porta sul retolo del Duomo di Santa Maria Collegiata a Chivasso e ha danneggiato un quadro, ha messo sotto sopra i contenuti dei cassetti, ha rubato quattro calici in oro, i paramenti sacri e le candele. E' successo nel pomeriggio di lunedì 1 giugno. Un passante ha visto l'uomo sfondare la porta del retolo della chiesa e ha chiamato il 112. L'immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il ladro e di recuperare la furtiva. Si tratta di un italiano di 34 anni senza fissa dimora che è stato arrestato per furto e danneggiamento. L'uomo è recidivo perché la settimana scorsa era già stato fermato fuori dal Duomo e denunciato per aver danneggiato alcuni arredi.